Benvenuti ad un nuovo episodio di Est & Guest, io sono Carlo e in una mattina milanese molto piovosa molto piovosa presento l'ospite di oggi che è Guglielmo in arte Willy Peyote Ciao E quindi qua c'è anche questo artificialissimo applauso Che però siccome non abbiamo una platea vera, abbiamo detto, cioè, creiamocela Tipo le sitcom anni 90 Esatto, tipo le sitcom anni 90 Come stai? Grazie mille per essere qua innanzitutto Grazie a voi dell'invito, bene, sto bene, grazie Te sei un mattiniero? No, decisamente no E anche allora siamo, in questo momento stiamo facendo una chiacca Ci hanno obbligato ad entrare A fare una, uno strappo alla regola Poi con la pioggia, cioè proprio la pioggia alla mattina è una di quelle cose che a me danno estremamente fastidio La pioggia in generale, ti devo dire la verità Poi io, essendo di Torino, sono abituato, però preferisco la nebbia alla pioggia Torino è una città che come Milano e come tantissima città si blocca con la pioggia Beh, guidano tutti peggio con la pioggia Che comunque è uno di quei postulati sempre veri Eh sì, se si piove vanno tutti in macchina e guidano tutti male Tutti male, quindi si blocca la città Come stai? Stai per iniziare un tour molto importante Perché è anche un po' il tour di un simbolo, di un anniversario Esatto Come ti senti? Come ci stai arrivando a questo momento? Poi entriamo chiaramente nel dettaglio Ma guarda, a parte le prove, io poi non lo sento fino a che non devo iniziare Devo dirti la verità, non sento la tensione delle cose finché proprio non mi ci trovo dentro E quindi per ora sto ancora... stiamo ragionando su cosa mettere in piedi Mi ha fatto una scaletta Essendo, come dicevi, un tour anniversario O quantomeno che fa riferimento a un disco di dieci anni fa È stata una scaletta molto diversa dal solito Quindi ci sono brani che non abbiamo mai fatto con la band dal vivo E alcuni riarrangiati, alcuni proprio riscritti anche nel testo Rispetto a dieci anni fa E poi vabbè, i soliti pezzi che bisogna fare per forza Sennò poi la gente si offende Esatto, proprio Motta che ti dicevo prima ci raccontava Di come tutta la gente che gli ha scritto Voleva pezzi che lui al 99% non avrebbe messo in schedetta Però giustamente si fa contenti tutti Quel disco lì, vedendolo con gli occhi di oggi Che emozioni ti fa nascere dentro? Guarda, intanto sono una serie di bei ricordi Mi riaffierano alla mente dei bei ricordi Perché poi la prima versione di quel disco uscì appunto a fine 2013 E i primi brani con i quali io riuscì a farmi conoscere un po' Al di fuori della scena rap tolinese Quindi a livello nazionale Sempre nel rap underground ma riconosciuto a livello nazionale Furono appunto Glick, Friggile Polpette Che da quel disco sono estratti Quindi comunque è un bel ricordo Mi ricordo anche che sono un rapper Nonostante tutti pensino al contrario Io in realtà ho iniziato e mi sono fatto conoscere Proprio con il rap parkour in realtà Perché poi quei pezzi erano abbastanza duri Nel contenuto e nella forma E quindi riportarli dal vivo Riascoltarli anche perché se no non me li ricordavo più E' stato strano Ma in realtà in qualche modo Così come il tour di per sé nasce da quest'idea Metterlo in piedi me l'ha ricordato Il tentativo è quello di raccontare come Nonostante siamo passati dieci anni E si è cambiato tutto Io e il mondo intorno a me In realtà in fondo il percorso è lineare E non ci sono così tante differenze Di contenuto rispetto all'epoca Molte differenze di forma ma non di contenuto Infatti tanto che non è il mio genere il genere umano Che ha il disco il tour Poi non è ancora il mio genere Il genere umano Cosa non è cambiato effettivamente Invece cosa percepisci che durante Lo scorrere degli anni inevitabilmente Dentro di te nel tuo modo di approcciare la musica La creatività L'arte La vita in generale È cambiato Ma guarda io cambio a ogni disco Nella misura in cui mi piace fare cose nuove Quindi comunque L'evoluzione è costante Non so dirti se è in avanti È di lato Però cerco di cambiare sempre Perché non mi piace ripetermi Sono cambiato in tanti modi Nel senso come si cambia Dai 27 ai 37 anni Insomma Si attraversano Sono dieci anni importanti Perché poi Io sono passato da lavorare in un call center A fare questo mestiere Da ormai dieci anni In cui posso mantenermi con questo E a fare tutta una serie di esperienze Anche lavorativamente importanti Ovviamente Sanremo Ma non solo E quindi sono cambiati in tanti modi Sono sicuramente Come dire Meno tranchant Meno Cioè Ho molte più sfumature Credo che l'età adulta ti porti ad avere Una consapevolezza diversa dalla realtà E ad analizzarla in maniera Più solida Si Non è tutto bianco e tutto nero Come quando hai 25 anni Sicuramente E quindi riesci Ad affrontare i temi Con un po' più di Di consapevolezza Che ti porta alla serenità Di accettare anche Le cose negative Del mondo Non con rassegnazione Non intendo dire Che ti passa la voglia Di cambiare il mondo Semplicemente capisci che Certe volte Per cambiare il mondo Bisogna innanzitutto Capire come comunicare il messaggio Più che avere un messaggio Importante da dire E dirlo con la forza Certo C'è la solita storia Che comunque Se hai qualcosa di potente In mente Dal momento che comunque Lo vai a comunicare A condividere Nella maniera sbagliata Poi perde Effettivamente Di efficacia Possiamo usare Questo termine C'è qualcosa Che ti manca Del Guglielmo Di dieci anni fa Invece che qualcosa Che proprio Non ti manca Ma guarda Mi manca poco Nel senso che Devo dirti la verità Come ti dicevo Gli anni passano E se servono a qualcosa Servono a toglierti un po' Non so L'ansia che avevo In generale Insomma La consapevolezza Arrivare a capirti Un po' meglio Quindi comunque Se non a volerti bene Quanto meno a Conoscerti A stimarti Come essere umano Che poi Insomma È una cosa importante Quello che mi manca In realtà Nell'approccio Alla musica Al lavoro Di musicista Sicuramente È la Come dire La spensieratezza Che hai Quando lo fai Solo per te E non c'è ancora Qualcuno a cui rispondere Né a livello discografico Né a livello di pubblico Pubblico In qualche modo Il pubblico Io vivo il rapporto Col pubblico In un modo molto sereno Ma penso di essere io Al servizio loro E non viceversa E quindi comunque Mi sento responsabilizzato Dalla fatto che qualcuno Aspetti Quello che scrivo E mi interessa sapere Come viene interpretato A prescindere da quello Che io volevo dire Mi interessa sapere L'interpretazione Cioè il rapporto Secondo me È pari Ma soprattutto Io sono al loro servizio E non viceversa Io non mi piace Il culto della personalità Che esiste Nel concetto di fandom Beh sta roba È molto interessante Perché comunque Io sento spesso anche Dire tutto il contrario Cioè a me non me ne fremo Niente Io faccio la musica Se ti piace Bella Effettivamente Anche in relazione Al discorso di prima Se La via Di come si esprime Un'idea È importante Perché deve arrivare A questo punto Se la pensi così È chiaro che Te da artista Hai a cuore L'interpretazione Di come tu dici le cose Effettivamente Questa roba È molto interessante Certo Nel senso Non che io mi senta vincolato Di dire quello che la gente Si aspetta Non intendevo quello Io ritengo Che l'artista Debba avere La libertà Di accompagnare Anche il pubblico Nel proprio percorso Quindi anche Magari facendo cose Che non si aspettano Però mi interessa L'opinione degli altri Mi interessa Il lavoro di condivisione Che c'è Tra pubblico e artista Ma sai perché È anche vero Che io non ho mai avuto A che fare Con il grandissimo pubblico Quindi comunque Numeri talmente grandi Che non ti puoi preoccupare Di tutti E diventa dispersivo Io ho comunque Sempre lavorato Nell'ottica Di un pubblico Affezionato E relativamente piccolo E di conseguenza È diverso l'apporto Che si instaura Certamente Facendo un passo indietro C'è un addenduto Molto divertente Poi io sono fan del calcio Quindi chiaramente Ne parlavamo prima La storia di Glick Che è un po' Il pezzo Con cui Non ti hanno scoperto Però in qualche modo C'è stato Insomma Un inizio È stato un momento Comunque Io volevo chiederti Quali altri momenti Ti ricordi Sono stati Un po' changing Nella tua carriera Nella tua vita E L'aneddoto Che c'è dietro A quella A quella canzone Beh guarda Si può partire da quello Nel senso che io Da tifoso del Toro Come dicevamo prima Sono partito Da scrivere una canzone Su questo difensore Polacco Del Torino Che al primo anno Da capitano Della squadra Si è fatto espellere In entrambi i derby E quindi Da tifoso del Toro Anti-Giuventino Questa cosa era simbolica Quindi ho deciso di fare Questa canzone su di lui La cosa assurda La canzone esce Il primo ottobre del 2013 Quindi Dieci anni fa Tondi E la cosa assurda È che diventa Un caso in Polonia Perché I polacchi Non si capacitano Del perché Un italiano Abbia fatto una canzone Su un difensore scarso Di una squadra sconosciuta E quindi Diventa un caso Arrivano giornalisti Della Polonia A intervistarmi Insieme a Camil Anni dopo Quando lui aveva smesso Di giocare al Toro Mi chiamavano comunque Per chiedermi Commenti sulle sue prestazioni Nel Monaco Perché giocò contro la Juve E fece un fallaccio Su Higuain Allora mi hanno chiamato E dirai visto che ancora Cose del genere E quindi è stato strano Sicuramente È anche un'altra cosa particolare Di quel pezzo lì Che mi ha fatto conoscere Dalle altre tifoserie Delle altre squadre italiane Anche tifoserie che non vanno Molto d'accordo Con la curva del Toro Mi ricordo Un'intervista da parte Dei tifosi dell'Ellas Verona Vabbè che i tifosi dell'Ellas Poi sono E però soprattutto Col Toro non è che si vogliono Benissimo No esatto assolutamente E poi anche tifoserie Tipo A Roma Ci venivano gli ultras Della Roma A cantare il pezzo Come quindi Comunque Fu un simbolo Del racconto Del calcio Visto dal punto di vista Di alcune pagine Che nascevano anche In quegli anni Tipo delinquenti Prestati nel mondo Del pallone Era anche un momento In cui c'era questo Teckel romantico Queste cose qua E quindi Quella pagina è pazzesca Effettivamente Me ne sto ricordando Il mio approccio Il racconto del calcio Nasceva dalla stessa visione loro E quindi in qualche modo Ho incontrato Tante persone Che la vedevano E la vedevano come me In generale Quello è stato il primo pezzo Che effettivamente Un riscontro Sì Altri momenti Così particolari Ma sai io Non sono uno Che si esalta In generale Delle cose Ci sono stati momenti In cui mi sono fermato Un secondo Perché quello che avevamo fatto Era comunque importante Per il periodo storico Mi ricordo Al primi due concerti Pieni a Torino Mi ricordo di essermi preso Un momento Per rendermi conto Di quello che stava succedendo Quindi non sono un esaltato Non sono un entusiasta Però ci sono stati momenti Lo ziget Mi ricordo Ah lo ziget La sera dello ziget Perché suonammo dopo Kendrick Lamar Non sullo stesso palco ovviamente Però sul secondo palco Non Io non mi aspettavo Venisse nessuno Invece c'erano migliaia di persone Con i tricolori Sembrava di aver vinto Lo scudetto In realtà Poi noi italiani Noi siamo iper legati Allo ziget E ci ho avuto sempre Anche prima di venire Qui a Milano Io vengo da una piccola città Nelle Marche E da Civitanova Marche Partivano i Pullman Per Insomma Andavano proprio Intanto C'era proprio un affetto Nei confetti Quello fu un momento Molto bello Ce ne sono stati diversi Mai roba che Eclatante Come ti dicevo Non ho neanche vinto il Grammy O ho fatto cose del genere Ma ogni successo È calibrato Alla propria aspettativa E alla propria Insomma idea Proprio per questo Poi è una domanda Che facciamo sempre Un po' a tutti gli ospiti Che significato A per te il successo E invece Il contrario Che significato Alla realizzazione Ah Bellissima domanda Io ritengo Che sia più importante L'essere realizzati Che non avere successo Che poi il successo È ancora una cosa diversa Dalla fama Quindi comunque Il successo È una cosa importante Perché avere successo Vuol dire che Ha successo quello che fai La fama invece È legata proprio Al culto della personalità Che come ti dicevo prima A me non piace Come concetto Quindi ti dico Ritengo comunque Che sia più importante Essere realizzati Che avere successo Se le due cose Si presentano Contemporaneamente meglio Però il successo È una cosa strana La fama è una cosa strana Io non Non ho iniziato A fare questo percorso Per fare la pop star Per motivi evidenti Dalla scelta del genere Ma anche dal physique du role Non sono proprio portato Però non ho Non ho mai pensato Di fare la pop star Quindi Non ho mai pensato Al successo In un certo modo Posso dirti Alcune esperienze Tipo Sanremo Non per fare Sempre quell'esempio lì Però ti espone molto E quindi comunque Ho dovuto anche Abituarmi Alla macro esposizione Che ti dà un evento Del genere Qualcosa ti arriva addosso Dopo esperienze del genere Inevitabilmente Come se ci sbatti Negli anni Antecedenti Perché comunque Lo sviluppo di tutte queste Che mi stai raccontando Chiaramente fanno parte Di un percorso Di una vita Che tu hai fatto Negli anni antecedenti A Glick Come maturano dentro di te Queste volontà Sia di non voler fare La pop star Ma comunque Di avere delle idee Di volerle condividere In qualche modo Di farlo con la musica E di scegliere anche Delle tematiche Che sono le protagoniste Della tua canzone Che non sono proprio Solo il cuore E l'amore E questo comunque È utile È bello È anche il significato Dell'arte Sotto tantissimi punti di vista Diversi Intanto grazie No beh ti dico Io credo che sia naturale Perché noi vogliamo Fare nella vita Quello che ci è piaciuto Visto fare dagli altri No? Non so se la conseguenza Sia corretta Ma più o meno Hai capito cosa intendevo Nel senso che I miei punti di riferimento I miei idoli Sia a livello musicale Che a livello letterario Erano tutte persone Che non puntavano Al grandissimo pubblico Io penso All'idea di Zack della Roccia Dei Range Against the Machine Che a un certo punto Lascia il gruppo Per andare in Chiapas A fare la rivoluzione Penso a gruppi Che comunque Hanno avuto grande successo Ma erano gruppi Comunque di nicchia Anche in Italia Il rap Nell'epoca in cui Mi ci avvicinavo io Era un genere Totalmente di nicchia E quindi io comunque Ho sempre avuto È stata una scelta naturale Perché poi In realtà vogliamo essere Le persone Che sono per noi Degli esempi In qualche modo Chi ci scegliamo Come esempio Come Stella Polare Ci porta poi a seguirne i passi E quindi insomma È stata una scelta naturale Perché poi in qualche modo Io ho sempre avuto Quello come riferimento Come riferimento Sì Non ho mai pensato A fare il Per dire Eminem È stato sicuramente Un artista importante Nella mia formazione Adolescenziale Però poi Non è stato quello Che mi ha In qualche modo Influenzato Nel modo di approcciare La scrittura Nei temi da trattare Nel flow Sì esatto Erano altri gli artisti Che poi in qualche modo Mi hanno influenzato Sulla scelta delle tematiche Appunto Alcuni rapper I cantautori italiani Alcuni autori Non musicali Ma proprio letterari Un certo tipo di fare Stand up comedy Anche che ho scoperto Quando ero giovane Tutte queste cose insieme In qualche modo Mi hanno influenzato E a livello invece Di esperienze di vita Prima mi hai menzionato Hai fatto Hai lavorato Tanti anni In un call center In un intervista Che ho sentito Molto divertente Di un podcast concorrente Ma che vorrei Che comunque Si potesse unire Al nostro Ne hai raccontati Molti altri Di aneddoti Del genere Compresi Quelli dell'università Che per me È sempre un tema caldo Perché l'ho mollata Quest'anno L'università Quindi Insomma Cosa è stato formativo Per te A livello di esperienze Di vita Perché è una domanda Che io mi faccio Dentro me stesso Parecchio Perché Ci raccontano O meglio L'università È come la scuola In generale È formativa In qualche modo Cade un po' Quando secondo me Dentro ognuno di noi Si perde questo senso Di partecipazione A qualcosa Che ti è utile Che ti costruisce qualcosa dentro Che è quello che ho vissuto Io ho percepito Che per me non fosse formativo Ho cercato la formazione in altro Cosa è stato per te invece Formativo A livello di esperienze di vita Ma guarda Ti dico Tutti i lavori di merda Che ho fatto Sono stati molto formativi E io Difendo moltissimo L'idea Che aver fatto Dei lavoracci E aver subito anche Delle situazioni Non piacevoli Mi abbia sicuramente Non solo formato il carattere Ma anche Temprato Sì temprato Mi ha anche aiutato A guardarmi intorno E a uscire Dalla mia zona di comfort E a guardare situazioni Creare empatia Con situazioni Che non sono la mia Nel senso che poi A call center Mi trovavo Con situazioni Che stanno Nell'università Non vedevo Tipo ragazzi di vent'anni Con tre figli Che è comunque Un mondo Che ti sembra Non esistere O solo in Sixteen and Pregnant Nei programmi Americani Però poi quando Frequenti Certi ambienti Come può essere Il call center Che insomma In qualche modo Raggruppava tutti Ti rendi conto Che insomma Esistono situazioni Molto diverse Dalla tua E secondo me Quello è sempre formativo Per cercare di aprire La mente Guardarsi intorno E imparare appunto L'empatia Che secondo me Poi è fondamentale Per scrivere Dipende cosa scrivi Però secondo me Per come io intendo La scrittura In generale Secondo me La chiave è l'empatia Cioè guardarsi intorno E osservare Non vuol dire solo Meramente copiare Quello che vedi in fuori Ma in realtà Cercare di prendere Anche le sensazioni Che vivono gli altri Pur non vivendo La stessa situazione Sono assolutamente Accordo Io penso anche Che l'empatia Forse è uno Dei pochi mezzi Che noi abbiamo Per connetterci Con altri esseri umani Cioè io sto con te In questo momento Stiamo parlando E se non ci fosse Empatia Nella percezione Di quello che sti sta dicendo Ma nessuno di due Si arricchisce E quindi Poi immagina Ampliare questa roba Con tutte le persone Con cui interagiamo Quindi è una roba Molto importante E chiaramente Uscire dal contesto Di comfort Come potrebbe essere Una classe universitaria E entrare a contatto Con quella che è la vita Un po' più cruda Cambia le cose Parliamo di due pezzi Che sono usciti Di recente E che ti stanno Un po' accompagnando Anche all'inizio Di questo tour Che è Frecciarossa Che è l'ultimo Uscito Dove dice una cosa Bellissima Che la fiducia È un dono Anche se è il mal riposta Io volevo chiederti Un po' come nasce Questo pezzo Frecciarossa Dai toni un po' più dolci Rispetto magari Ad altre canzoni E in cosa hai riposto Tu la fiducia Ma guarda Il pezzo nasce In realtà Non da un'esperienza personale O almeno Non da una soltanto È un compendio Di diverse esperienze personali Non solo mie Ma anche di racconti Di amici In realtà nasce Dalla sensazione Che spesso usiamo Una serie di terminologie Una nomenclatura Sulle relazioni Ormai sempre più di frequente E nei confronti Dei partner Che di volta in volta Incontriamo Che secondo me Usiamo con troppa leggerezza Nel senso Il termine borderline In termine narcisista Patologico Il discorso Sui malesseri Sui casi umani E così via Trovo che Nel nostro raccontare Le relazioni Ci sia Un'abitudine A utilizzare Dei termini Che usiamo Con troppa leggerezza Quindi il ragionamento Nasce dalla sensazione Che le nostre relazioni Durino sempre meno Anche un po' Per colpa nostra Che cerchiamo Di dare un nome Troppo in fretta Alle cose E spesso Cerchiamo di dare nomi Appunto Così Un po' pesanti Perché poi Un narcisismo patologico In quanto patologico È una malattia Non è che tutte le persone Che incontriamo Possono essere affette Da una malattia Ne è possibile Che tutti quelli Che ci incontrano Abbiano Nel loro passato Cioè nel senso Diventa un po' troppo Quindi il mio Nasceva da Da questo ragionamento E poi soprattutto Appunto come hai detto tu La frase centrale È quella sulla fiducia Nel senso che poi Nella vita Anche lì crescendo Mi sono accorto che La fiducia Non dipende Da chi hai di fronte La fiducia è una scelta Che tu fai Ed è un regalo Che fai a te stesso E agli altri Quasi con te stesso E soprattutto A te stesso che lo fai Perché vivere con l'ansia Vivere con la gelosia Ti rovina la vita a te Più che alla persona E rovina anche la relazione Quando non ce n'è ragione Quindi la fiducia Non è solo Un dono che facciamo agli altri Ma è un dono Che facciamo a noi stessi Nel senso che Se la nostra fiducia È stata tradita da qualcuno Questo non vuol dire Che la prossima persona Non meriti di averla O che noi meritiamo Di averla Nel resto del genere umano Ecco Volevo agganciarmi Con questa cosa Chiedendo anche Effettivamente C'è una riflessione Che è nata Mentre mi parlavi E Quanto è importante Comunque A prescindere Levandoci dal contesto Relazionale Non essere sfiduciati Per Adesso non dico apprezzare Tutte le sfumature della vita Perché comunque Siamo esseri umani E qualcosa Dalla tasca cade Necessariamente Però Io noto tantissimo La cosa che mi hai detto Ovvero l'utilizzo Magari di termini Grandi Mi era un po' inappropriata Di esagerare un pochino Nell'etichetta Nelle definizioni Nelle cose E sono molto d'accordo Però vedo anche Molta sfiducia Sì Intorno a me E quindi volevo chiederti Effettivamente Se poi questa frase Che è un dono La fiducia è un dono Anche se mal riposta Se è ampliabile Anche proprio Su molti più punti di vista E quindi quanto è importante Essere attaccati comunque A qualche idea A un sogno A un ideale A una battaglia A una lotta Ma guarda L'idea è proprio quella Di allargarlo Non solo le relazioni Partire dalle relazioni Ma per allargarlo Al senso Ci ho messo tanto A elaborarlo Questo pensiero Però ci sono arrivato In realtà è perfetto Perché è la stessa cosa Che pensavo io Scrivendo il brano Cioè la fiducia È un tema In quel caso Rapportato alle relazioni Ma che si apre a tutto Nel senso Anche la sensazione Che tutti si offendano Molto in fretta Quando qualcuno Fa una battuta Su ciò che li riguarda Secondo me Nasce dal fatto Che di base Siamo meno convinti noi Di ciò in cui crediamo E quindi chiunque Può dire una battuta E metterlo in discussione Secondo me Il problema nasce da lì Cioè se noi viviamo Con la sensazione Che tutto E che tutti Possano mettere in discussione Chi siamo E ciò in cui crediamo Saremo anche più incazzati Con il resto del mondo E avremo meno fiducia Negli altri Perché la fiducia È una forma La mancanza di fiducia È una forma di paura Di protezione E secondo me L'idea è quella Per cui Se tu sei consapevole Di chi sei E ciò in cui credi Questo ti rende anche Più fiducioso Nei confronti degli altri Perché non hai paura Che chiunque passi Possa distruggerti In qualche modo Assolutamente E poi comunque Esatto come dici tu Ci fa credere Comunque in qualcosa Perché pensando solo Anche la fiducia politica Cioè quante volte La politica ci delude Tantissime volte Eppure se non andassimo Più a votare Cioè crollerebbe Tutto un sistema Quindi secondo me Ci fa sempre Rimanere attaccati È una fiducia Un tema a cui sono molto legato Perché mi dà l'impressione Che ci Anche se con le unghie Ci fa rimanere In qualcosa E qualche passettino Ce lo fa fare Comunque Certo Picasso Pezzo Uscito prima Di Frecciarossa Che tu racconti Su Instagram Come un pezzo Per I compagni di sbronze E di quando non esci Per paura Di incontrare qualcuno O qualcosa E Mi ha colpito parecchio Per tantissimi motivi Ma vorrei che me lo raccontassi Un po' tu A modo tuo Ok beh Picasso nasce da lì Invece da un tentativo Di analisi Delle dipendenze Delle dipendenze affettive Nel senso che poi la canzone Sembra parlare di una relazione Sentimentale Quindi si parte da quello Ma in realtà Mi ha affrontato il tema Delle dipendenze Perché ho notato anche Intorno a me Che Da qualche Da dopo il covid in avanti Mettiamola così Anche durante Il secondo lockdown Insomma Abbiamo tutti Peggiorato le nostre dipendenze E qualcuno E qualcuno ne ha trovati Di nuove Oggi sai Ci si fa un gran parlare Della ludopatia Dei calciatori E una forma di dipendenza Assolutamente L'uso di stupefacenti In un certo modo Con una certa Io non sono un moralista Anzi penso che tutte le scelte Se consapevoli Vadano bene Quindi Non discuto le scelte Che fanno gli altri Dico solo che La diffusione Delle dipendenze Sotto varie forme Sia quelle affettive Che appunto Di altro genere Mi ha dato da pensare Nell'ultimo periodo Quindi Picasso Nasceva da questo Tentativo di Di analisi Su me stesso E sugli altri Perché poi Anche lì Non è autobiografico È un racconto Di esperienze mie Ma anche di altre persone Che incontro spesso Sulla mia strada Dei miei amici Delle persone Che frequento O che mi è capitato Di incontrare Nei vari localacci A Torino Alle 4 del mattino Quando poi a quel punto È ovvio Che quello che rimane Siano le dipendenze Di ognuno di noi Nel senso che Se sei in giro Il martedì sera Alle 4 del mattino In un locale L'unico locale aperto Della piazza Allora C'è qualcosa Che non quadra Alla fine della fiera O c'è qualcosa Che manca Che poi si ricerca E lo dico Da persona Che ha le sue Di dipendenza No no Come ognuno di noi Comunque Che siano Insomma Qualunque esse siano Insomma Allora C'è L'introduzione Pagliate 451 In cui si parla Dell'eccezione Dove c'è Questa intro bellissima In cui Non so Qual è È un sample Di qualche film Che film è Non l'ho ritrovato Santo Maradona Ok In cui C'è Questa voce Che fa una domanda Penso sia un uomo Un ragazzo Sì È un colloquio di lavoro Ok esatto È un colloquio di lavoro E Qual è il tuo miglior pregio La sincerità Il tuo peggior difetto La sincerità E quello che invece A cui aspiri La sincerità Quindi Io volevo chiederti Qual è il tuo miglior pregio Il tuo principale difetto E la tua aspirazione Effettivamente Beh allora guarda Sarebbe troppo semplice Risponderti la sincerità Perché ho scelto Quello skit Per iniziare quel disco In particolare Perché quel film È molto formativo per me Ed è un film che ritorna Anche In Pornostalgia L'ultimo pezzo Si intitola sempre Lo stesso film I riferimenti sono A quel film lì Perché uno dei due attori Del film Libro di Rienzo Che è mancato Nel 2021 Era un mio amico Oltre a essere stato per me Un punto di riferimento Con la sua carriera La sua arte Da Santa Maradona in avanti E quindi comunque Quel film torna sempre Nella mia vita All'epoca di Educazione Sabauda Scelsi quello skit Perché raccontava un po' Anche di me In qualche modo Mi sentivo rappresentato Poi ti posso dire Che andando un po' più Nello specifico Nel senso Essendo meno così Senza copiare Marco Ponti Nella sua sceneggiatura Posso dire che Il mio peggior difetto I pregi non li so Nel senso che I pregi poi subitamente Ci dicono gli altri Non possiamo dicirli da soli Il mio peggior difetto È che In generale Non ho ancora imparato A vivere Con un po' più di tranquillità La vita Nel senso che Mi sono naturalmente Portato a essere A vedere le cose In senso negativo Cioè mi fascio la testa Prima di romperla Da quando sono nato E quindi se ti dovessi dire Qual è il mio peggior difetto Perché rovina Non solo il mio approccio alla vita Ma anche il mio rapporto Con gli altri È la lunga Sta cosa qua E quindi se dovessi Riassumere in un solo difetto Il peggiore secondo me È quello Nel senso che bisogna imparare A vivere con un po' più di tranquillità La vita Perché E già ho migliorato Rispetto a quando Avevo Quando ero adolescente E quando ero giovane Però Racchiuderei con quello Il mio peggior difetto Da comunque anche Cantante autore E da uomo Che comunque occupa Questa società E questa vita È sempre fondamentale Essere sinceri Secondo te Sì Ma c'è un limite Nel senso che Non bisogna mai Essere sinceri Appunto Di non considerare L'effetto che fa La nostra sincerità Sugli altri Perché gli altri esistono E hanno diritto Ad avere A porre dei limiti Nella nostra sincerità Quindi un conto Essere Io ti direi Che la sincerità Nella misura in cui Sei una persona In qualche modo Come si dice Genuina Allora sì La sincerità però Non vuol dire Che se ti passa Una cosa per la testa Hai il diritto di dirla Hai il diritto di dirla Esatto Perché c'è questa differenza La sincerità Deve comunque Limitarsi Alla buona convivenza Con gli altri Però secondo me È molto importante Di nuovo Essere sincero In quello che si fa Sinceri con se stessi Innanzitutto Il resto poi viene Di conseguenza Assolutamente La tua ossessione Ed il tuo talento E valgono anche risposte Stupide Anzi io spero sempre Che i miei ospiti Mi dicano Faccio due capioli in aria Se bevo quattro birre Magari no Fisicamente sono una chiavica No allora Ti dico Il mio talento Ho avuto culo Che mi è piaciuto il rap E poi il rap è diventato Il genere più importante Del pianeta Mi piaceva la stand up E alla fine Stava avendo successo Quindi probabilmente Dovrei mettermi a dare I numeri dell'otto E potrei avere talento Nel senso di preveggenza Di predire il futuro In realtà mi piacciono le cose Quando non mi piacciono nessuno E poi quelle cose diventano Molto conosciute Forse questo potrebbe essere Un talento E in realtà Ecco il talento È di scegliere sempre Le cause sbagliate Quelle più sfigate Dalla squadra di calcio A scegliermi Non so Il personaggio preferito Di un film Di un fumetto Ho sempre scelto Quelli che poi perdono Questa passione Per l'underdog E invece L'altro è un'ossessione Beh io Il mio lavoro Lo vivo con una certa ossessione Ma anche Troppo Nel senso che Torniamo al discorso Della tranquillità Che dicevamo prima Secondo me Quando sei troppo ossessivo Nelle cose Poi comunque Non le fai bene E ti togli spazio Per il resto Quindi se dovessi dirti La mia ossessione Temo di essere Un po' ossessionato Dal tuo lavoro Che è anche Poi automativamente La tua passione È il tuo principale Hai mai provato A stare stand up Perché io so anche Che sei molto amico Di alcuni Dei principali esponenti Hai stato anche La tintoria Certo E l'anteprima Di un ultimo Di un ultimo Dei brani Che è uscito E è stato presentato Da Luca Ai Murazzi Il mio posto preferito Di Torino Poi adesso parliamo Di Torino Perché io Ho un sacco di amici Che studiano lì E vabbè Sto sempre qua a Milano Vengo dalle Marche Però se io Devo scegliere E mi dicono Andiamo un weekend fuori Dove andiamo? Torino Però poi ne parliamo Hai mai provato A fare stand up Cosa ti interessa Cosa ti affascina Di quel modo Di salire sul palco E in realtà Poi in qualche modo Fare quello Che fai anche te Ad esempio è questo Cioè il punto è Che io trovo Molti punti di contatto Fra la stand up E il rap Come approccio Ai temi Al fatto di Alleggerire temi pesanti Ma senza essere superficiali Quindi cercare Di renderli accessibili A tutti Magari farci una risata sopra Ma parlare di cose Profonde e serie Quindi la stand up Mi è sempre piaciuta Per quello Ho seguito La stand up italiana Da un po' di tempo Quindi da Giorgio Montanini In un disco Del 2017 Ho avuto la fortuna Di avere poi appunto Anche Michela Michela Girò E Emanuele Fanelli Nell'ultimo disco Ho la fortuna Di essere diventato amico Di De Carlo Di Ravenna Sì 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 La scena Sì perché io poi Divento amico Nel senso che vado Agli spettacoli di tutti Perché sono proprio gasato E la studio anche un po' Nel senso che Non ho mai provato Perché non mi sento Di avere nel talento Ne penso che tutti Dobbiamo saper fare tutto Per forza E quindi lo lascio fare A chi è capace davvero Però la studio Da tanto tempo Nel senso che studio Proprio anche la forma E con cui scrivono le battute E con cui concepiscono Uno spettacolo Cioè mi piace proprio Anche analizzare La bravura dell'autore Nella sua capacità Di costruire uno spettacolo I richiami che fa All'interno dello spettacolo Su cose dette prima Come vengono fatti Questi richiami Cioè mi piace proprio La tecnica anche Della stand up Quanto è importante ancora Nonostante tutto Torino Per la tua vita Che è stata fondamentale È stata la protagonista Il palcoscenico Il tuo rettangolo di gioco Una metafora calcistica Comunque Quanto è ancora importante E quanto ti riesce a dare ancora E soprattutto Hai mai pensato di Andartene per un po' Ho pensato di andarmene Poi non l'ho mai fatto Davvero L'ultima cosa che ho pensato È stata di Di vivere un po' anche a Roma Perché a Roma Sto sempre bene E quindi ho pensato Vabbè vivo un po' a Roma Un po' a Torino Poi per motivi Proprio logistici Non sono ancora riuscito a farlo Però no Non me ne andrei del tutto Perché sono molto legato In qualche modo Alla città Non solo perché mi ha cresciuto Ma anche per quello Che ha rappresentato Come idea Nel senso che poi Penso al percorso di Subsonica Per farti un esempio Assolutamente Anche loro non se ne sono mai andati Da Torino E sono molto legati Al racconto della città E a restituire qualcosa Alla città Che gli ha dato così tanto Io questa idea qua Ce l'ho tanto Sono molto legato A questo concetto Di rimanere Per dare anche qualcosa Indietro In qualche modo E quindi no Non ho mai pensato Di andarmene davvero Non ho mai neanche vissuto fuori Ho fatto Ho vissuto un po' a Parigi Un paio di mesi Quando avevo 16 anni Ma perché non sapevo Lo francese mi hanno mandato A studiare Cioè niente di più Non mi è mai successo Di stare fuori Ho frequentato altre città Sì Nel senso Sotto tanto a Bologna Sotto tanto a Roma Sotto tanto a Genova Nel passato Città che amo profondamente Però poi Mi piace stare a Torino Anche perché casa È sempre casa È sempre casa Alla fine E poi è una città Comunque che ha Dei lati positivi Nel senso che Non è grande Non è troppo grande Non è troppo piccola E a misura d'uomo Si gira in fretta Ha un modo di approcciarsi Un po' provinciale Che però secondo me Aiuta l'umanità Se questo è quello che Questo è quello che ho percepito Io a quel che mi piace così tanto C'è un'umanità sana Sì Sì poi sai Quella cosa del falso e cortesi In realtà nasce dal fatto Che sono tutti molto Molto formali a Torino Io per primo Sono una persona molto formale E un po' freddini Nel senso che I miei amici di Roma Mi prendono per il culo Perché io a Torino Vado sei mesi in nostro bar E non ci scambiamo una parola Col barista Eppure ci conosciamo Il mio amico romano La seconda volta al ristorante Gli parlava come si conoscesse Ma è amico tuo o questo? No ma guarda che tu sei di Torino Qua Ma la seconda volta Che vai in un locale Devi parlare d'amico Va bene E quindi È vero anche questo Però come Come la Liguria Come la Sardegna Per certi versi In realtà è solo una forma di Come dire Di non voler essere invadenti Negli altri Io seguio quasi Nei confronti del Sì E dopo che tu entri però All'interno del tessuto Vieni accolto Come se fossi a casa Sempre Mentre A Bologna Non sarei mai un bolognese Se non sei bolognese Certo E lo dico perché Conosco tanti bolognesi Nati che rifiutano dentro le mura E lo so Come sono i bolognesi Come sono fatti Che amo profondamente Però poi non sei mai Davvero bolognese Sì La radice non Insomma Puoi far crescere delle foglie Radicalmente Sei un regas Ma non sei un bolognese Esatto Esatto Allora Nelle tue produzioni musicali Secondo me stai lasciando Un retaggio molto importante Per quanto riguarda Tutte le tematiche Che tratti E poi potremmo anche parlare Di impegno musicale Però Io volevo chiederti Per cosa ti piacerebbe Essere ricordato Un giorno Magari non succederà mai In cui decidi Semplicemente Di dedicarti ad altro E non solo alla musica Insomma Cioè un tuo fan Cosa ti piacerebbe Rappresentare per loro Dal momento che dirai Io Questo percorso della musica Mi è piaciuto E gli metto O uno stand by O proprio lo chiudo Quindi guardo dall'alto Tutto il segmento Dal primo disco All'ultimo disco All'ultimo singolo Ho detto molte cose importanti Ho racconto tanta vita vera Tanta società Tanta politica E cosa ti piacerebbe Aver trasmesso Alla fine dei conti È una domanda difficile Perché poi Già solo essere ricordati In qualche modo È una grande soddisfazione Quindi Poi che scelgano gli altri Come ricordarmi Purché sia una cosa positiva No Però non saprei Nel senso che poi Tra le cose che mi sono sentito dire Negli anni La cosa che più di tutte Mi fa piacere sentirmi dire è Hai detto quello che pensavo In un modo che io Non sarei stato in grado E quella è una bellissima cosa Cioè Che bella giornata È un brano che affronto Il mio momento In cui mi sono licenziato La mia scelta di licenziarmi Per fare questa robetta qua Della musica E quando le persone mi dicono Che si sono licenziate E che per caricarsi Dal licenziamento Hanno ascoltato quella canzone Che quella canzone Gli ha spinti a fare questo passo È bello Mi sento anche responsabile Cioè gli chiedo sempre Poi com'è andata Poi ho l'ansia Che sia andata male Però quella è una cosa bella Quindi ti dico Se qualcuno In qualche modo Mi ricorderà Perché ci si è riconosciuto In quello che ho detto E non solo Nel racconto Delle relazioni Ma proprio Nel racconto Più legato alla vita Certo Sarà già sufficiente Ma appunto Se qualcuno si ricorderà di me Sarà comunque Un grande evento Siamo così tanti nel mondo Che se qualcuno Viene ricordato È già un evento Molto bello Allora Ti faccio una domanda sul futuro Quindi Cosa auguri Al Guglielmo Del futuro Per questo tour E anche per il dopo tour Che comunque il dopo tour È sempre un momento Positivo Negativo Insomma Quindi Cosa ti auguri Che succeda in questo tour Cosa cerchi All'interno di questo giro di date E cosa speri che accada dopo O cosa vuoi che accada dopo Per la tua vita Ma guarda Io cerco E auspico Che ci sia Il contatto con la gente Perché poi adesso È tanto che non suoniamo È tanto che non suoniamo Nei club Perché noi abbiamo Abbiamo interrotto un tour Nel 2020 A causa del covid E da allora Non abbiamo più suonato Nei club Al chiuso Quindi comunque Che è una dimensione Che mi piace molto Quindi già Io mi aspetto Di Che ci sia uno scambio Con le persone Anche perché credo Che chi verrà A questo A questo concerto In realtà Sono i fan più accaniti Quelli che da sempre Seguono il progetto Che comunque Hanno particolare voglia Di partecipare Quindi comunque Gli devo molto E di conseguenza Mi aspetto Ci sia un effettivo scambio Fra di noi Nel senso proprio Reale Quindi mi auguro Che si avverta questa cosa La vicinanza Che spero si crei Fra me e loro E fra di loro Anche Che è una cosa bella I concerti Quando la gente si conosce A un concerto È come allo stadio Quello che hai di fianco Non lo conosci Ma al gol ti abbracci Perché abbiate una cosa in comune Quando succede i concerti Secondo me è una grande soddisfazione È una soddisfazione Assolutamente Mi sento Mi sento di aver fatto Una cosa bella Appagato Quindi quello già è un augurio In generale Cosa voglio che succeda dopo Non lo so Ti ho detto Il mio obiettivo è quello Di Di Rimparare a vivere Tranquillamente Bravo Anche la professione La serenità Nel senso Tornare ad avere La spensieratezza Che avevo Quando non mi interessava Cioè nel senso Non pensavo Nessuno mi cagasse Quindi non mi preoccupavo Di quello Allora Poi sono in casa Eh beh sì Venaria Venaria reale Il 6 novembre E poi anche il 13 Nel senso che c'è una seconda data Che Assolutamente sì Perché la prima è sold out Lo dico solo per quello Che poi magari Quando dici Ah no Non ci sono più No no Diciamo Diciamolo Il 13 novembre C'è la seconda data Venaria reale Viene a Milano Padova Firenze Insomma Ciampino Quindi vicino Roma Napoli E ti fai un bel Un bel giro Dello stivale Guillermo per me è stato Un grandissimo piacere Parlare con te Grazie mille a te E ti faccio un grandissimo In bocca al lupo Per tutto quello che è il tour E anche come abbiamo detto Fino ad adesso Il dopo tour Grazie mille Willy Pegliote Noi ci sentiamo Al prossimo episodio Grazie mille